Sono sbarcati poco dopo le 15 di questo pomeriggio, mercoledì 31 agosto 2016, alla banchina di Santa Polinare nel seno di Levante del porto interno di Brindisi, i 708 migranti trasportati sulla nave idrografica della Marina Militare Inglese HMS Enterprise, soccorsi nella giornata di lunedì nel canale di Sicilia. Tra loro 200 donne e 500 uomini, dei quali una quarantina di minori, di cui due risulterebbero non accompagnati. I migranti sono di varia nazionalità, ma principalmente siriani. Come anticipato alla Prefettura dei responsabili del programma Frontex, che coordina le operazioni di salvataggio e trasferimento in Italia, a bordo dell'imbarcazione anglosassone è stata purtroppo confermata la presenza di due salme. Facendo riferimento al vertice tenutosi alle 12 di ieri, martedì 30 agosto, nella Prefettura del Capoluogo Adriatico, è quindi scattato il programma di accoglienza ai profughi e quello di assistenza ai minori e ai feriti che si trovino a bordo della nave. L'imponente presidio di forze dell'ordine, soccorritori del 118, Croce Rossa, Uomini della Protezione Civile, Azienda Sanitaria Locale, Capitaneria di Porto, Mediatori Culturali e diverse associazioni di volontariato, permette di garantire ai migranti l'assistenza medica sulla banchina come primo soccorso e nelle strutture da campo allestite, come ormai consuetudine, all'interno del capannone ex Monte Catini, dove sono effettuate anche le operazioni di identificazione e smistamento da parte dei poliziotti dell'ufficio immigrazione e dei colleghi della scientifica. Al termine delle operazioni di smistamento, i migranti saranno divisi nei vari centri di accoglienza dello stivale, solo una piccola parte rimarrà in Puglia, gli altri saranno trasferiti presso strutture di accoglienza situate in Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Lazio.